saluto fabrizio mastroforti che mi perdonerà per aver fatto questa piccola storia ma mi piace mettermi nei panni dell'euro non so magari ti fa piacere questa cosa mi piace ragionare intorno alla nostra moneta buongiorno ben trovato sulle fonti tv fabrizio buon pomeriggio manuela te ai telespettatori fonti tv ecco c'è qualcosa che non quadra nel racconto che ho fatto io o si e ti vuoi inserire per aggiungere qualcos'altro rispetto all'andamento dell'euro dollaro in questo in questo questi ultimi mesi da luglio diciamo quando poi abbiamo assistito a una discesa sulla parità rispetto al dollaro ci hai presentato il quadro molto bene nel senso è stato è stato così è stato più che altro prima il super dollaro era perché sembrava che tutti acquistassero dollari e come se fosse ecco l'unica economia che rispondeva che era in grado di rispondere a tutto quello che ci stava accadendo perché chiaramente un post pandemia seguita da 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 un conflitto che minava soprattutto per la vicinanza e per l'impatto delle sanzioni la comunità europea questo faceva sì che in assenza anche di yen perché solitamente in questi casi di diciamo di fattori esogeni di crisi geopolitiche sia l'oro come bene rifugio che lo yen il franco svizzero come valute dovevano essere quelle diciamo che la che dovevano prendere il il palcoscenico diciamo invece invece solo solo dollaro solo dollaro fino a che però quindi solo dollaro e le conseguenze di tutto questo dovevano portare ad una sicura recessione da parte della dei paesi della comunità europea e in questo comunque ci si ci si era messo del del nostro se vogliamo parlare di europa nel senso con il ritardo con il seguire ancora ancora di più ti ricorderai il famoso termine dell'inflazione transitoria e però ecco la diciamo la comunità europea la bce più che altro è a ritardato anche nel nel rialzo dei tassi proprio per perché preoccupata comunque dalle condizioni economiche del debito di alcuni paesi quello che poteva provocare invece abbiamo visto in questi negli ultimi mesi di cui parlavi che dove gli analisti parlavano anche proprio di una forza del del dell'euro anche a livelli di di delta tassi proprio perché si vede si vedeva una resilienza da parte della diciamo dell'economia di diversi paesi europei inaspettata e questo ha portato ad una reazione che ha portato ad un 50 per cento circa del del ritracciamento di quello che era stata la la discesa del diciamo dell'euro rispetto rispetto al biglietto verde questo quindi il quadro era giustissimo quello che facevi e quindi sì c'è stata questa forza dell'euro percepita unita chiaramente però anche a delle prese di posizione prese di profitto da parte chi di chi aveva chiaramente acquistato tantissimi dollari una reazione anche da parte dello yen in alcune in alcune situazioni e quindi e soprattutto anche il i primi dati sull'inflazione in calo che venivano proprio dal dall'america e quindi una un'aspettativa di una politica meno aggressiva di una politica assolutamente che si è vista anche nell'ultima diciamo nell'ultima riunione della fede certo favorito ora ho un po' di domande da farti ma parto poi da quella che ho evidenziato che non ha una domanda ma te la pongo come domanda evidenziato in sovrimpressione ma possiamo dire che l'euro dollaro quindi è in mano alle banche centrali o in balia non so come come vorresti dirlo tu sì secondo me sì si aspettano si aspettano sono le uniche le uniche i unici market mover del del mercato nel nel dollar index e quindi nel nel cambio euro dollaro che sappiamo essere il faro del del forex in quanto i principali scambi avvengono tra queste tra queste due valute e vediamo che gli scossoni oppure le fasi laterali perché stiamo vivendo adesso una fase una fase laterale perché c'è proprio un'indecisione nel senso che sembrava che l'euro prendesse forza però il giorno del rialzo dei tassi e del anche l'indicazione che questa politica da parte della bce sarebbe proseguita abbiamo avuto un calo cioè un raggiungimento del 1 e 10 dei massimi di periodo per poi però ritracciare e ritracciare e di nuovo dopo invece le dichiarazioni di powell della fed che dice è iniziato un periodo di deflazione cioè nel senso vediamo però subito 24 ore dopo già altra dichiarazione che diceva che il quadro inflattivo prevedeva doveva prevedere una continua ancora manovra di aumento dei tassi quindi queste diciamo continuere dichiarazioni e smentite o fanno sì che abbiamo dei dei momenti di diciamo di rafforzamento di una valuta contro un'altra in questo caso di euro dollaro che però rimangono in questo in questo range che va secondo me dai 1 0 5 90 fino ecco guardiamo che il grafico infatti ti lascio continuare con delle previsioni però chiedo anche alla regia se mettiamo l'altro titolo perché la domanda insomma prospettive rialziste rimandate a questo punto e ti chiedo anche fabrizio so che sono tante cose ma sono fanno parte dello stesso pacchetto sotto quale livello lo consideri la consideri una discesa pericolosa per l'euro per me il livello da tenere d'occhio è 1 0 5 70 che sarebbe il 38 e 2 per cento di ritracciamento di fibonacci e dove passa la media a 50 periodi dal punto di vista tecnico la media 50 periodi esponenziale se viene rotto quel quel livello che anche un livello settimanale poco sotto c'è 1 0 4 90 che è un altro livello importante vuol dire che c'è un'inversione di tendenza di di medio periodo in questo momento è un ritracciamento però se vediamo due candele due candele settimanali passiamo da 1 e 0 10 adesso siamo a 1 0 7 c'è un leggero diciamo dell'euro sopra 1 0 7 anche questo livello dal punto di vista psicologico è importante per rimanere nel range di cui ti parlavo prima tra 1 0 7 e 1 0 8 80 è il livello dove si sono posizionati di più i prezzi in questo periodo diciamo di diciamo di alternanza come dicevo tra un rafforzamento soprattutto comunque c'è stato diciamo un rafforzamento dell'euro e questo rafforzamento del dollaro è avvenuto anche in un momento inaspettato perché continuavano i dati positivi per quanto riguarda l'occupazione e quindi sembrava che la politica insomma dei tassi della fed stesse veramente avvicinandosi verso una diciamo un rallentamento invece in questo in questo momento si è visto proprio dalla chiusura dell'azionario di ieri sera e dal crollo anche degli indici cinesi di questa notte che ci sono proprio questi timori di un asprimento sia della fed che delle altre banche centrali che ancora non considerano finito il lavoro certo no 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 assolutamente per niente quindi fabrizio possiamo di potremmo dire che questo 1 0 7 che adesso ha toccato il cambio è un po un test e poi invece tu considera insomma pericolosa 1 0 5 70 giusto lo ripeto per i nostri amici insomma quindi se ritornasse se ritornasse giù ma quindi appunto dobbiamo aspettare a parlare di prospettive rialziste è un momento un po di snodo questo sì nel senso per quanto riguarda la bce e le la situazione sembra sembra chiara però ecco oggi seguendo un po le notizie dal punto di vista purtroppo anche delle escalation militare in ucraina ci sono tanti fattori che vanno a incidere a incidere sul sui fattori economici soprattutto su sulla produzione nel senso che parlavo della cina anche queste tensioni tra cina e america vengono in un momento che i prezzi alla produzione dopo la ripartenza della politica zero covid non non sembrano ancora abbastanza forti da da riaccendere insomma la la piena produzione cinese e questo chiaramente per l'economia mondiale è importante è molto importante e fa diciamo provoca delle situazioni particolari in in paesi per esempio anche come l'australia nuova zelanda eccetera che dipendono molto dal dalla 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 cina dalla cina stessa quindi il i fattori di 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 riscon che sembravano essere risvegliati da questa politica più accomodante da parte della fed dall'inizio dell'anno sono diciamo devono essere monitorati chiaro chiaro potrebbe essere iniziata insomma una fase di ritracciamento anche per quanto riguarda gli indici certo 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 e una cosa se possa aggiungere una cosa importante che è successa di nuovo ieri è la salita proprio molto forte dei rendimenti dei titoli biennali contro invece i decennali americani che stanno ad indicare la scarsa fiducia dell'economia di resistere ancora ad ulteriori aumenti della fed perché se le aspettative sono così importanti cioè si parlava di portafogli che vanno possono rendere il 5 il 6 per cento a due anni e quindi c'è chiaramente scontano una un rischio e una difficoltà da parte dell'economia abbastanza elevato evidente sì sì tale tale